Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica sulle borse internazionali a fine di settimana, oggi venerdì 13 novembre. Partiamo dal mercato italiano, qui davanti abbiamo il FIB, il Future sul Fuzimib. Vediamo che anche questa settimana è stata improntata al rialzo grazie alla ottima seduta di lunedì scorso con l'annuncio da parte della casa farmaceutica Pfizer del vaccino in fase di sperimentazione ormai riuscito contro il coronavirus. Il mercato è andato a rialzo e ha permesso al nostro mercato italiano di raggiungere e sfiorare nell'intraday anche l'importante soglia psicologica dei 21.000 punti, andando molto vicino ad un massimo precedente che era situato sul 21.100 punti. Poi in realtà il mercato nelle ultime sedute ha lateralizzato mantenendosi comunque direi piuttosto alto, anche nella giornata di oggi tutto sommato siamo rimasti nell'intorno di quota 20.900, quindi vicino al 21.000. L'auspicio è che nelle prossime settimane alla rottura di 21.020 il mercato possa continuare a rialzo, altrimenti ci sarà da attendersi un ritracciamento anche abbastanza significativo, anche abbastanza corposo, che è assolutamente fisiologico, visto che veniamo da oramai una decina se non di più di sedute consecutive a rialzo, che potrebbe addirittura portare il mercato nella peggioranza dell'ipotesi sul livello 19.800 dove c'è un gap down, gap up, scusate, ancora ha rimasto aperto, che sarebbe secondo le regole dell'analisi tetrica ancora da chiudere. Passando al mercato tedesco, al Dax, il future Dax, la situazione è piuttosto analoga, veniamo da diverse sedute consecutive al rialzo, che hanno permesso al mercato, proprio in un discorso, questa favolosa giornata rialzista da più 5% superare la soglia psicologica dei 13.000 punti, arrivare fino ad un 13.290, ma non avere più la forza nelle sedute di questa settimana di superarlo nuovamente. effettivamente qui abbiamo una sorta di triplo-quadruplo massimo nell'area molto vicina ai 13.250 e con la seduta di ieri giovedì già l'inizio di un probabile ritracciamento. Oggi infatti il rimbalzo è stato decisamente di lieve entità, quindi qui c'è un indizio di ribasso, un indizio di ritracciamento che potrebbe proseguire anche nelle prossime sedute, quelle della prossima settimana, che potrebbe portare il mercato fino verso l'area dei 12.600 punti. Oltre Oceano la situazione è abbastanza diversa, anche se qui dobbiamo dire due cose molto importanti. Innanzitutto, qui davanti abbiamo lo Standard & Poor's 500, nel famoso lunedì che ho già citato, ha veramente toccato il massimo storico per l'ennesima volta sul livello 3.668. Da un massimo storico è difficile aspettarsi ulteriore prosecuzione del rialzo, anche perché nella stessa giornata di lunedì il pattern che si è creato, il pattern grafico che si è creato è definita una pin bar, quindi una barra Pinocchio, che è considerata una configurazione di inversione, un pattern di inversione, e effettivamente poi nelle giornate successive il mercato ha abbastanza lateralizzato. Anche qui, un po' come per quanto riguarda i mercati già visti in precedenza, i mercati azionari visti in precedenza, difficilmente nella settimana prossima dovremmo vedere una persecuzione del rialzo, quanto piuttosto un ritracciamento e, nella migliore ipotesi, una fase laterale, una fase di congestione, anche con compressione e di volatilità. L'importante è che nel brevissimo lo Standard & Poor's 500 non vada a perdere il supporto posto sul livello 3.500. Passando alle commodities, in modo particolare al petrolio, siamo contenti di dire che l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata assolutamente corretta, ritenevamo che il livello 33.50-34 fosse un supporto dal quale rimbalzare. In effetti così è stato, il mercato è andato ben oltre le nostre aspettative, ha superato, come si vede nel grafico, addirittura l'indicatore supertrend, è andato ben a rialzo fino a raggiungere i 42.50, rompendo e superando quella che era una resistenza storica attorno al livello 41.50. Poi nelle ultime sedute sta facendo un leggero pullback, un leggero ritracciamento, ma appunto trattasi di pullback. Siamo al di sopra di tutti gli indicatori, media mobile 25, parabolizzare supertrend, quindi il mercato è decisamente impostato rialzo. Benvenga questo pullback finché le quotazioni non scendono sotto quota 39.50, altrimenti torneremo nella solita fase, è laterale, nella solita fase di congestione. Ma sul livello 39.50 ci sono buone possibilità che il mercato possa nuovamente rimbalzare e proseguire la sua corsa fino verso quota 44. Notizie negative invece provengono dall'oro, dal gold, dove il segnale rialzista sul 1942 evidenziato la scorsa settimana si è dimostrato essere un falso segnale. Se lunedì le borse azionari hanno brindato al rialzo, l'oro invece è stato un vero e proprio disastro, in un'unica seduta ha perso 75 punti, 75 dollari, ha violato l'indicatore supertrend, ma soprattutto si è riportato sotto quota 1.900, andando di nuovo a testare il supporto sul 1.875-1.850. Questa è l'area di supporto. Queste ultime sedute è rimbalzato, ma è al di sotto di tutti gli indicatori. Direi che qui non ci sono al momento nuove possibilità di recupero, benché vada tornerà a lateralizzare attorno a quota 1.900, diciamo che al contrario qui potrebbero cominciare a tremare le gambe, visto che l'inversione che ha avuto lunedì scorso è abbastanza sostanziosa e graficamente molto importante, diciamo che a questo punto, anziché pensare a dove potrà andare al rialzo, dobbiamo un attimo guardarci le spalle e pensare a dove potrà scendere. Speriamo non scenda mai sotto 1.850. Infine il cambio euro-dollaro, il principale cross valutario, qui invece dovrei dire niente di nuovo sotto al sole. Come al solito 7-8 sedute positive, 7-8 sedute negative, in un andamento costantemente ciclico e costantemente regolare, ma fondamentalmente laterale e imbrigliato tra supporti e resistenze statiche. L'area 1.19 è la resistenza più importante, l'area 1.16.20 è il supporto più importante. Per il resto si sta muovendo ciclicamente in modo oscillante tra questi due livelli. Solo nell'ultima settimana, in questa settimana, sta dimostrando di tenere il supporto rappresentato dalla media mobile a 25 sul livello 1.1777, ma non giurerei che questo sia un supporto che farà rimbalzare il cambio a euro-dollaro, quanto piuttosto prima o poi mi aspetto una violazione a ribasso con un recupero del dollaro che potrebbe la settimana prossima raggiungere 1.17, come soglia psicologica importante, andando a raggiungere l'indicatore Parabolic SAR. Ho finito qui la mia analisi, io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie!